Ha messo in allarme Mezza Francia la fuga di gas da un impianto chimico nel nord del paese. Lo stabilimento Lubrizol di Rouen l'ha attribuita una reazione chimica in attesa del gas mercaptano. L'odore di uova marce si è sentito fino a oltremanica sulla costa britannica, ma le autorità francesi assicurano che non ci sono rischi per la salute.